A Bibiana nel Palazzo Comunale è stato aperto il nuovo punto digitale facile della regione toscana, messo così a disposizione da parte dell'amministrazione bibianese a tutti i cittadini, grazie anche al proprio personale che è stato formato e oggi capace di formare anche la popolazione nell'uso del sistema. Stiamo con questo ufficio implementando una ulteriore diffusione sul territorio regionale, abbiamo già 119 punti digitali di informazione a disposizione da mettere e da inaugurare. Abbiamo un bando aperto per ulteriori 50 punti in cui andremo a concludere l'obiettivo del 169 che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha assegnato per la Toscana. Rinnovo innanzitutto i ringraziamenti all'assessore Cioffo, come detto queste sono delle buone pratiche che stimolano i comuni a fare più servizi per i cittadini e in questo caso la regione aiuta anche i comuni nell'attivazione con delle risorse, quindi davvero una bella pratica per tutti, lo dico anche da responsabile di innovazione di tutti i comuni toscani, di ANCI, quindi un ringraziamento proprio da parte anche di tutti i colleghi. Facendo servizi come questo si cerca di aiutare le persone nel capire anche meglio quelli che sono i potenziali digitali, avvicinarli all'istituzione e riavvicinarli un po' anche alla piazza che sia fisica o che sia digitale ma che possa dare equità tra tutte le facce popolazione, cosa che invece purtroppo ad oggi non avviene perché chiaramente c'è una differenza in verticale tra le generazioni. Quindi grazie ancora all'assessore e noi come Comune siamo contenti di poter venire ancora più incontro ai nostri cittadini.